Presidente, sei mesi dopo è un po' difficile dire che si sia usciti dall'emergenza e comunque anche il momento e questa è un'occasione importante per mettere a punto quelle che saranno le riforme, l'avvio operativo vero e proprio dell'attività di questa giunta e di questa maggioranza nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per andare anche su qualcosa di strutturale. Noi siamo impegnati su un processo riformista incredibile, stiamo cercando di porre le basi perché la regione sia completamente diversa al termine della nostra legislatura, già i provvedimenti che abbiamo adottato per quanto riguarda soprattutto la programmazione di tipo infrastrutturale con dotazione di fondi importanti, mi riferisco ai 6 miliardi di euro per quanto riguarda l'accordo sulle infrastrutture che abbiamo fatto col governo nazionale e poi quello invece per lo sviluppo economico con il ministero dello sviluppo economico che adesso il Cipe dovrà cominciare a derogare i fondi attraverso Stralci che riguardano un miliardo di euro, credo che siano dotazioni finanziarie che la regione non ha mai avuto e quindi ci stiamo dedicando soprattutto a questo e quindi una programmazione completa in maniera tale che si possa sapere quello che è la strada che dobbiamo seguire non solo nei prossimi 4 anni ma anche nei prossimi 10. Questo era l'argomento fondamentale. Poi stiamo intervenendo su quello che è il sistema sanitario, nostro altro aspetto rilevantissimo. Io ho già preannunciato quelle che sono le linee politiche che dovranno essere seguite, la cabina di regia sta lavorando e presto cominceremo a rendere pubblico quello che sono il nuovo modello sanitario abruzzese che sarà sicuramente meno costoso per i cittadini e anche di maggiore qualità. L'intervento sulla legge urbanistica oggi è già stata deliberata dalla giunta, nuova legge urbanistica che dopo penso che quella precedente risalga se non ricordo male, insomma gli anni 80, i primi degli anni 80. Abbiamo fatto 22 commissariamenti di enti regionali quindi evitando consigli di amministrazione e costi importanti, anche questo credo che sia una cosa che non si sia mai registrato in Abruzzo, un'azione coraggiosa in questo senso di questa maggioranza. Abbiamo deciso di fare veramente l'accorpamento delle asle e quindi di passare da 6 asle a 4 asle ed è un percorso che non è assolutamente facile. Stiamo portando, abbiamo deliberato in giunta il nuovo piano energetico della regione Abruzzo, anche questo è un argomento molto strutturale e importante, così come oggi discuteremo anche delle leggi che riguardano l'artigianato, le leggi sul commercio, le riforme che sono state già varate dalla giunta e che passeranno all'esame consigliare. Direi che il nostro intervento è con una forte tensione riformista, ma non solo perché la regione ha bisogno di essere riformata, ma perché i cittadini abruzzesi hanno bisogno di percepire che c'è un governo che ha adotto un modello comportamentale da un punto di vista politico completamente diverso da quello del passato. Questo per restituire fiducia e lo stiamo facendo anche se questo dovesse comportare delle decisioni impopolari. La situazione finanziaria della regione Abruzzo, sapete qual è? La più pesante d'Italia. Abbiamo fatto una finanziaria rigorosissima, che naturalmente ha lasciato molti lobby scontente, molte corporazioni scontente, ma purtroppo non è che è una volontà negativa la nostra, è che non abbiamo più la possibilità di fare quello che accadeva nel passato, non abbiamo più la possibilità di fare debiti, 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 debiti. Abbiamo raggiunto il limite, diciamo così, previsto per legge. Quindi, grazie a questa finanziaria rigorosissima, abbiamo potuto mantenere lo stesso rating che avevamo prima, nonostante la vicenda del terremoto che fa presumere alla storia di rating che ci sarà una minore capacità di entrate fiscali per la regione Abruzzo. Mentre per esempio per il comune dell'Aquila c'è stato il declassamento da un punto di vista del rating, per la regione Abruzzo no, proprio per la legge finanziaria che abbiamo fatto durissima. Insomma, io credo che si stia mettendo in cantiere una grande stagione. Naturalmente questa non sarà scevra da critiche, perché purtroppo non potremmo fare più le leggi omnibus che accontentavano a destra e a sinistra, creando buchi di bilancio che poi qualcuno prima o poi avrebbe dovuto affrontare. Non vogliamo ragionare come coloro che dicono, noi stiamo quattro anni qui, poi se la vadrà chi verrà. No, vogliamo pensare che noi, come se stessimo qui per i prossimi vent'anni, non perché ci staremo, ma perché è giusto che una classe di governo ragioni in questo senso.